Sul fronte della quarta dose del vaccino anti-covid, anche in Abruzzo si sta registrando un netto rallentamento. Per questo motivo il Ministero della Salute ha inviato, come ad altre regioni, una circolare per far accelerare la campagna. Dunque, le asle abruzzesi dovranno contattare con urgenza gli oltre 280.000 abruzzesi a rischio complicanze che non hanno ancora ricevuto la quarta dose o che non hanno completato il ciclo del vaccino anti-covid. Ricordiamo che la somministrazione della quarta dose è rivolta agli immunocompromessi, i malati di patologie croniche ultra-sessantenni e tutti gli over-80. C'è una circolare del Ministero e del neocommissario che invita le regioni e quindi di conseguenza le asle a procedere e spingere sulla vaccinazione, sul completamento della scheda vaccinale ed in particolare sulla somministrazione della quarta dose. La regione Abruzzo, attraverso una nota, ha dato seguito a questo input che proviene dal Ministero e quindi adesso ogni asle dovrà organizzarsi anche attraverso la chiamata attiva per poter, soprattutto per quelle categorie, in particolare per quelle categorie che oggi hanno diritto la quarta dose o per 60 e fragili, soprattutto sui fragili e fra questo soprattutto su quelli che sono trapiantati perché sono di fatto le categorie che rischiano di più. Per cui si stiamo muovendo in questo senso, anche l'AS di Teramo si organizzerà nei prossimi giorni e vedremo se è opportuno anche ricorrere alla chiamata attiva. Sul fronte della quarta dose la regione Abruzzo comunque ha somministrato oltre 13.000 dosi. Sì, 13.000 sono le dosi somministrate in regione, è un numero diciamo ancora piccolo però comunque qualcosa si muove seppur lentamente, diciamo le quarte dosi vengono somministrate. Ora bisognerà coinvolgere nuovamente i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, queste sono le indicazioni che ci vengono date dal commissario sia per il completamento della scheda vaccinale che per la quarta dose. Bisogna accelerare adesso per essere pronti poi a settembre-ottobre? Insomma l'esperienza ci deve servire, negli anni passati c'è stato un calo dei contagi durante il periodo estivo, poi purtroppo in autunno il virus è ripartito e allora è opportuno fare questa dose, soprattutto per le categorie fragili in modo da poi rafforzare il sistema immunitario ed essere pronti ad un'eventuale possibile nuova ondata che ci potrebbe essere in autunno.